L'idea è molto intuitivo nella concezione di un oggetto. L'idea gli viene da qualcosa che vede per strada, in una rivista, in un negozio di souvenir, e spesso all'inizio è mosso da un impulso viscerale. Ma poi il progetto, il lavoro, può protrarsi per anni, persino decenni, e a quel punto lui investe tutta la sua attenzione, il suo tempo e le sue energie per riprodurre il più fedelmente e con il maggior numero di dettagli possibile, in un modo che a volte può sembrare folle, quell'impulso o gesto originale. Non vuole ripensarlo o modificarlo troppo. Quello che invece vuole fare è articolare in modo chiaro e preciso quel sentimento o pensiero iniziale. Una delle opere più grandi e complicate che Jeff abbia mai realizzato è la riproduzione di una massa di plastilina dal ciclo Celebration. Gli ci sono voluti quasi 20 anni per finire la scultura, che è stata concepita all'inizio degli anni 90 come parte di una serie originariamente commissionata dal gallerista Anthony Doffe per la realizzazione di un calendario.